Buonasera a tutti, buonasera a chi ci segue da Zoom, ancora una volta, buonasera a chi si è collegato e ci seguirà dalla diretta Facebook. Questa sera siamo nuovamente su Numinosa con un nuovo appuntamento dedicato al Reiki in compagnia di Pino Galati. Pino è già stato con noi per un altro incontro e abbiamo parlato di iridologia perché è un naturopata con una grande passione per l'iridologia che utilizza come uno strumento di valutazione per lo sopra di salute generale dell'individuo. È anche psicologo, vive e opera in Calabria. Ma stasera siamo qui perché in realtà parleremo di Reiki che è una disciplina che lui pratica da più di 25 anni e insegna da oltre 10. un tipo di Reiki particolare che è il Reiki tradizionale del metodo Mikao Kusui, della scuola internazionale Omio Reiki Do. Vediamo se l'ho detto bene. Si occupa a un'associazione, è presidente di un'associazione culturale che si chiama Dinamicamente, di Reiki Libro Bioenergetico. è un ricercatore spirituale, è uno studioso di filosofia e delle religioni orientali e di sciamanesimo. È già qui con noi in diretta, ve lo presento. Intanto benvenuto Giuseppe e ancora benvenuti a tutti voi. Benvenuti a tutti, anche però con un po' di pazienza perché non bisogna perdonare, ma si riesce a risolvere soprattutto. Purtroppo sono davvero notevoli difficoltà, il computer può che fa le pizze, ma si sa, l'elettronica è comunque a volte così. Allora bene, mi ho presentato già a Georgia. Io, come diceva Georgia, sono un naturopata con un indirizzo iridologico. L'indirizzo iridologia per fare una valutazione generale dello stato di salute bioenergetica e quindi di Reiki, che pratico da 25 anni e insegno da oltre 10. Quindi stasera vi presenterò una presentazione standard che io faccio quando in genere mi chiamano per parlare di Reiki, quindi non vuole essere una pubblicità che sto facendo a me, ma mi aiuterà per descrivere meglio il Reiki, che cos'è, la sua storia e come viene praticato. Bene, allora partiamo dalle origini. Reiki, perché questo nome? Allora, il Reiki innanzitutto è una tecnica di riequilibrio bioenergetico. Rei sta per energia universale, chi è la propria energia. Quindi Reiki è una parola composta da due kanji. I kanji sono i pictogrammi che in genere i giapponesi fanno per scrivere. È una tecnica di riequilibrio bioenergetico, come anche una via verso la consapevolezza, prendere coscienza che esista questa energia che ci accomuna tutti e che è possibile contattare tutte le volte che lo si desidera una cosa straordinaria. Partiamo quindi dalle origini di energia universale. Il nome Reiki, quindi, nella lingua giapponese è formata da due kanji. I kanji sono i pictogrammi con cui scrivono i giapponesi, ok? Quindi, Rei si rifà all'energia universale, il Ki invece è all'energia propria e personale. Questa unione dei due termini ha dato origine a questo termine più ampio che si chiama Reiki, ok? Quindi noi siamo immersi in un campo di energia ed è possibile attingere a questo campo di energia per mezzo di questa tecnica chiamata Reiki. Ho il gatto che è venuto a farmi vista, al solito quando ho le conferenze con voi si fa una passeggiatina. Allora, che cos'è questa energia universale? Noi sappiamo benissimo che siamo immersi in un campo di energia. Questo campo, spesso a noi ci sembra tutto vuoto, in verità tutto quello che appare vuoto è invece pieno di energia. Quindi la distanza che noi troviamo tra un corpo luminoso e un altro, quel vuoto apparente è tutta energia. Quindi invece noi non diamo senso a queste cose. Noi abbiamo la possibilità di attingere a questa energia universale attraverso la tecnica del Reiki. Scusate un attimo che allontano un po' il micetto. Ogni volta che è il seminario dicevo che il Gattino si viene a fare la lusitina. Allora, il concetto generale che esiste da sempre, come un qualcosa che emana questa energia, portategli il nome che volete, insomma, ognuno per la propria cultura, sia un credo religioso. Potete immaginare come una grande antenna che dalla notte dei tempi lancia sempre lo stesso segnale. Poi gli potremmo dare anche un nome a questo segnale, no? Perché accade che spesso ci si ammala? Ci si ammala quando le persone perdono contatto con questa energia, o meglio, perdono contatto un po' con se stessi. Si crea la disarmonia. Disarmonia o disarmonico ci indica qualcosa che non è in armonia, non è più in sintonia. Quindi è come se noi fossimo scollegati da questa energia, da questa antenna che vibra dalla notte dei tempi, vi dicevo, e manda sempre lo stesso segnale. Questo segnale ha molta influenza su di noi. Non chiamiamolo campo magnetico assolutamente perché non è così. Però sappiamo benissimo che noi percepiamo questa energia attraverso il nostro corpo sottile. Quindi a livello olistico, il concetto generale è che nell'olismo noi consideriamo l'essere umano come un tutt'uno, non un insieme di organi scomposti, come fa la medicina allopatica, no? Se uno ha problemi al fegato va dallo specialista, se ha problemi ai reni, quindi bisogna andare dagli specialisti. In verità, in senzionistico, l'essere umano non è stato mai scomposto. Viene visto sempre come un tutt'uno di mente, corpo e spirito. Quindi io mi soffermo un attimo su questa particolarità. Quando noi parliamo di spirito o di animo, parlando di noi stessi, cioè la nostra capacità di essere in sintonia con noi stessi. Quindi qui ho messo questa immagine per farvi capire che il nostro campo magnetico, la nostra aura, percepisce questa energia. Però se siamo disarmonici noi, è come se la nostra antenna ricevente non capta più il segnale originario, capito? Quindi io mi considero un po' come un antennista che deve riparare le antenne riceventi che devono percepire il segnale per come dovrebbe arrivare. Io ho messo questa immagine che riguarda un po' il chakra. Penso che gran parte di chi starà, secondo il seminario, capisce bene cosa vuol dire. Questi sono i nostri chakra. Abbiamo un chakra afferente e un chakra efferente, nel senso che c'è un chakra che risucchia l'energia, quella positiva, e poi quello efferente deve mandare via l'energia esausta, che abbiamo in un po' come quando respiriamo. Se inspiriamo e prendiamo ossigeno, dobbiamo restituire all'universo l'anidride carbonica che abbiamo prodotto. Un doubt des. Quindi c'è uno scambio continuo tra noi e l'universo e i nostri chakra sono quelli che maggiormente percepiscono il tutto. Allora, cosa fa un terapista Reiki? Il terapista Reiki deve ristabilire gli equilibri energetici e lo fa con le mani. La tepene io non uso mai il termine imposizione delle anni perché non si impone proprio nulla. È uno scambio di energia fra il terapista e la persona che ha bisogno di ricevere questa energia. Poi vedremo che ci sono diversi livelli nel Reiki, no? Il primo livello serve per aiutare se stesso, per guarire se stesso, le persone vicino a sé. Il secondo livello poi vedremo si può mandare energia a distanza, persone che sono lontane da noi, magari dall'alto capo del mondo. Quindi il Reiki serve per ristabilire armonia e salute nelle persone. Ma è anche un ottimo antistress, vedremo, perché accade una cosa bellissima quando si pratica il Reiki. Ci si rilassa fondamentalmente. Allora, parliamo un po' delle origini. Lo scopritore del metodo è un monaco buddista che si chiama Mikau Sui, si chiamava. Allora, la sua storia è un po' particolare. Ci sono parecchi libri che parlano di Reiki, però molti tradiscono un po' la vera storia, nel senso che si scrive di tutto e di più. Pertanto, chi compra solo un libro di Reiki magari dice vabbè, è così, la storia è interessante sicuramente. Però, per quanto mi riguarda, poi vi spiegherò anche perché, noi conosciamo molto bene la tradizione, la storia, le origini di questa figura leggendaria, possiamo dire così, che è stato Mikau Sui. Allora, vi parlo di questo personaggio che sicuramente è molto interessante. Allora, innanzitutto, egli proveniva da una famiglia di discendenti di samurai, praticava arti marziali, era medico, era filosofo, studioso di religioni. E quindi, era molto curioso. Al di là di tutto, egli insegnava in una università giapponese. Un giorno, un allievo gli faceva una domanda molto, molto importante, a cui lui non sape rispondere. La domanda era, come faceva Gesù a guarire gli ammalati? Eh, bella notizia, bella domanda. A questa domanda, mi sapirono tanti, tanti punti interrogativi. Allora, volle capirne di più. E per capirne di più, Mikau su un certo momento, si ritirò sulla montagna più sacra del Giappone e meditò per 21 giorni. Questa meditazione, praticamente, con digiuno gli permise di arrivare a un qualcosa. In verità, non accadde nulla di particolare. Fino all'ultimo giorno, in pratica, lui rimase su questa montagna a meditare, a pregare, però non accadeva nulla. Quindi si convinse che le sue richieste di comprensione, di capire il dono della guarigione, cosa potesse essere, non fosse stato esaurito. Però accade una cosa, proprio mentre lui decideva di tornare giù dalla montagna, che gli fece cambiare prospettive. Cominciò a vedere qualcosa di particolare, pensava di essersi un attività allucinato. Mentre scendeva giù, magari stanco per il digiuno e per tutta una serie di cose, ruzzolò lungo un diale e si fece male alle gambe. Istintivamente, quando noi ci facciamo male, avviciniamo le mani ai nostri arti. È un gesto istintivo, atabico, che tutti quanti abbiamo, quando ci facciamo male da qualche parte, ci mettiamo la mano quasi a darci sostegno. E dopo un po' si accorse di stare bene. Ma non ci fece molto caso, la reputò come una situazione normale. Quindi ripresse il suo cammino, tornò nel suo villaggio e lì si accorse che ogni volta che avvicinava le mani al suo corpo, le mani le sentiva calde e sentiva scorrere qualcosa. E allora si mise a riflettere. Dice, ma allora, cioè io sono rimasto su questa montagna, apparentemente mi è sembrato che non fosse accaduto nulla, ma invece era accaduto tutto. Si ricordò che prima di tornare giù vide come delle spere luminose che gli ruotavano intorno con delle luci colorate, ma lui pensò che fosse dovuto al digiuno tutti quei giorni senza mangiare in preghiera, pensò che fossero delle visioni dovute alla stanchezza psicologica. Comunque, detto ciò, comincia tutta la storia del Reiki, quindi ricevette il dono della guarigione. Però c'è un però. Contrariamente a quello che avviene nelle altre culture, io vi faccio un esempio, non succede anche in Italia, quando c'è un guaritore o una persona che ha un particolare carisma e riesce ad aiutare a guarire gli altri. In genere lo fa per avere un profitto, insomma, no? Non dico che chiede chissà che cose, però in genere queste persone poi vivono delle offerte che gli vengono fatte dalle persone che vengono aiutate in questo loro percorso di guarigione. Mikao Sui, penso bene invece di divulgare questa cosa, perché la cosa più bella che si può fare quando si riceve un dono è condividerlo con gli altri. E quindi da qui inizia la vera storia del Reiki, perché lui praticamente comincia a insegnare il Reiki. Va bene? E poi vedremo che c'è tutta anche qui una storia un po' particolare, perché come c'è scritto qui, Musui amava leggere e scrivere, possedeva conoscenze in materia di medicina, psicologia, teologia, praticava l'arte della divinizione e conosceva le religioni del mondo. Nel corso della vita trasmise i suoi insegnamenti a oltre 2000 persone e iniziò 17 maestri. Cosa vuol dire? Che oltre ad aver, diciamo, divulgato il metodo, egli creò 17 maestri. Adesso vediamo quali sono stati i primi, un po' tutta una storia anche qui particolare. Allora, qui io ho segnato, vi ho messo delle foto, e quindi per farvi capire un po' il lignaggio che c'è dietro questa storia. Quindi partiamo dal capostipite, Mikau Sult, il fondatore del metodo. Il suo primo allievo è stato Kujiro Ayashi, questo signore qui che sorride. Kujiro Ayashi era un capitano della marina imperiale giapponese, quindi aveva, diciamo, era votato alla guerra. E come tale, quindi, ero un militare per tutti gli aspetti. Quando conobbe Mikau Usui cambiò totalmente prospettiva, perché capì che l'amore che lega le persone è la cosa più importante. Quindi si dedicò all'apprendimento del rei, che poi a sua volta, essendo due anni di rei, guardate bene, potremmo ricordarvi che tutto questo accade fino a 800, inizio del 900, e siamo già nella metà del 900, seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale, non sappiamo che i giapponesi sono stati sconfitti e quindi sono stati, come dire, rilegati, malvisti, figua, rigione giapponese, non ebbe vita facile nella sua divulgazione, perché i giapponesi, visto quello che era accaduto, e erano vissi in modo. Perché vi sto dicendo questo? Perché poi le cose che preparano invece al reiki di essere divulgati in occidente e quando va che sono matata. La voglia toccata era una giapponese naturalizzata americana e viveva le guai. In un certo periodo della vita ebbe tutta una serie di situazioni, si separò dal marito, poi si ammalò con un tumore. I medici di quel tempo gli avevano dato pochi mesi di vita. Allora, come fanno tutte le persone? Penso bene di... Abbiamo un problema tecnico. Vediamo se riesce a ritornare. Ma siete riusciti a sentire anche voi poco? Cioè sentivate anche voi la... Si, era un po' disturbato. Vediamo se riesce a ritornare. Allora, vi vedete? Ci stiamo... Giuseppe, l'audio è... La sera non è arrivata a sofferto, ci vuole un po' di reiki. Eh sì, diciamo che si sente abbastanza male. Cioè è un po' come... Un po' robotico. Allora, io vi sento benissimo. Robotico. Allora, proverò a parlare più lentamente. Speriamo che... Allora, aspettate che stanno in cuffia e vediamo se vi sentite meglio così. Proviamo. Credo che sia un problema principalmente di connessione. Cioè veramente... Purtroppo... Purtroppo... Purtroppo, purtroppo, purtroppo non posso fare altro se non continuare a darmi, diciamo, energia con il mio telefonino visto che sono senza Wi-Fi stasera. Posso davvero? Riuscite a seguirmi? Proviamo. Tu prova ad andare avanti. Vediamo se... Adesso andava meglio. Riproviamo. Ok. Lo schermo è condiviso? No, vediamo te. Solo me. Quindi dovrei rimettere... Vediamo un po' se ci riusciamo. Vediamo, vediamo un po'. Tra l'altro, adesso ti sentite meglio. Credo che la condivisione insieme alle slide sia un po' problematica. Vediamo un po', dai. In ogni caso, noi ci riproviamo. No, togli il video e metti successo. Allora. Audio. Slide le mandi. Allora, ragazzi, io capisco che stasera è un po' problematica. Ma a limite, se tu parli, anche se non vediamo le slide, va bene lo stesso. Tanto, diciamo, quello che tu spieghi è molto interessante. Ma io non vi vedo più nemmeno. Vedo solo... Mi appare... Aspettate, vediamo se... Ah, ecco qua, dai. Mi si era rimpicciolito lo schermo. Però, ecco, mostrarvi delle slide. Forse poteva essere anche abbastanza carino. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Riusciamo a vederlo? A vedere qualcosa? Sì, adesso sì. Ok. Eravamo arrivati alla signora Vayotakata che si ha male di tumore. C'eravamo fino qui? Sì. Ok. Vayotakata, quindi, ritorna in Giappone per salutare un po' i parenti e sa, riesce a sapere, per vie diverse, che esiste la clinica perché in Giappone si usava a mettere su queste cliniche Reiki. La prima clinica l'aveva aperta a Giausui, un'altra clinica l'aveva aperta a Vayo Kujiro Ayashi. Quindi erano un po' come degli ospedali dove si praticava Reiki tutti i giorni alle persone che andavano lì a farne richiesta. Riuscite a seguirmi? Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Diciamo che era molto, molto incredibile. C'era andato con un po' di... con la mosca sul naso, diciamo così, molto, molto scettica, incredula e ci va, diciamo, giusto perché era l'ultima chance. Il tempo che gli era stato diagnosticato come tempo finale era oramai scarsuccio e quindi dice proviamo. Si presenta da Kujiro Ayashi e incomincia ad avere, a ricevere i primi trattamenti Reiki. La cosa che accade quando iniziò a ricevere i trattamenti fu del tutto singolare, nel senso che lei era sdraiata sul lettino a un certo punto, si sentiva sobbalzare su questo letto. E allora pensò da gran furbona, dice qui c'è qualcuno che mi vuole fregare sotto il letto per impressionarmi un po', lo muovono, lo spingono per farmi chissà capire che c'è questa energia. E allora molto astutamente, diciamo così, cosa fa? Si piega con la testa sotto il letto, va a guardare ma non c'era proprio nessuno. E allora incominciò a riflettere, diciamo ma com'è possibile? Io mi sento sobbalzare come se ci fosse qualcosa da dentro che mi sospinge. E quindi incominciò ad abbandonare quel senso di scetticismo e piano piano capì che proprio era l'energia Reiki che stava facendo il suo lavoro. In definitiva la vai otakata guarisce. Guarisce diventa allieva diretta di Kujira Yashi, questo signore qua che vedete nella foto. Ok, allora la storia incomincia a diventare un po' più interessante. Avevo prima detto che tutto accadeva a cavallo della seconda guerra mondiale, i giapponesi avevano perso la guerra, c'era l'embargo e quindi erano isolati. Come fare per far passare nel mondo occidentale questa tecnica di guarigione giapponese? Allora cosa si inventa vai otakata? Si inventa che Mikao Usui era un monaco cattolico e quindi non buddista. In verità Usui è stato sempre un monaco buddista della setta, della terra pura. Guardate bene, quando parliamo di setta la connotazione non è come quella che c'è qui da noi in Italia o in Europa che per setta si intende qualcosa di negativo. In Giappone setta è quella che noi chiamiamo religione, va bene? Ce ne sono due, una della terra pura a cui apparteneva Mikao Usui e poi ce n'è un'altra di cui non ricordo il nome. Badate bene, la cosa strana è che la moglie di Mikao Usui apparteneva all'altra, chiamiamola religione, che tra virgolette hanno pochissime cose che non siano in comune, solo piccole differenze. Poi in sostanza sono la stessa cosa, comunque la situazione è così. Avaio Takata quindi racconta questa bella frottola dicendo che Mikao Usui era un monaco cattolico. E così con questa bella bugia la cosa venne accettata. Se avesse detto che Mikao Usui era stato un monaco buddista, probabilmente la cosa non sarebbe stata accettata facilmente dall'America, soprattutto perché Avaio Takata incomincia a divulgarla in America e poi dall'America incomincia ad allargarsi ed è arrivata anche più da noi in Europa. Quindi Avaio Takata racconta questa grande bugia. Sui libri di Reiki, infatti, su molti libri c'è scritto che Mikao Usui era un monaco cattolico. Niente di più falso. Ok, allora adesso vi presento queste altre due persone. Kujiro Yamaguchi, se badate bene, guardate le date, 1921, stiamo parlando di tempi abbastanza recenti, un secolo fa, d'accordo, io ho 60 anni, per cui per me 1921 non mi suona tanto lontano. E poi c'è gli Akuteni Inamoto, questo monaco qui. Questo monaco qui, che è ancora vivente, è il presidente della Komio Reiki Kai, che adesso è Komio Reikido in Giappone. Cos'è questa Komio Reikido? È un'associazione, associazione Komio. Komio vuol dire in giapponese luce, quindi noi stiamo parlando del Reiki della luce. Io nella prima slide avevo messo questo girasole, non a caso, perché il girasole, come voi sapete, si orienta sempre verso la luce e si sposta per captarne sempre i raggi. Quindi l'operatore Reiki è un operatore un po' come un girasole, è sempre orientato verso la luce. Komio Reiki, quindi vuol dire Reiki della luce. Perché sappiamo benissimo che tipo di vibrazione ci può dare la luce, l'energia, insomma. Ok, allora torniamo a Yakuteni Inamoto. Vi racconto la storia di questo personaggio. Anzi, per raccontarvi la storia di questo personaggio vi devo parlare prima di questa ragazza qui, Chiara Grandi. Non so se riuscite a vedere il nome. Chiara Grandi è una ragazza italiana che vive in Lombardia, Brescia, e tempo fa aveva problemi di salute. Aveva problemi di salute e in pratica aveva un braccio che le faceva sempre male. Va dai medici, le danno diverse cure, gli hanno detto che poteva semplicemente rallentare il processo degenerativo, ma che piano piano avrebbe perso l'uso del braccio. E quindi lei, poverina, andava avanti a rimedi, rimedi, farmaci, tomate, creme, antibiotici, per cercare di smorzare un po' il dolore. Frequentava una palestra in quel periodo. E in quella palestra, una sera, mentre si lamentava del dolore del braccio, si presenta un ragazzo e gli fa Senti Chiara, ti va se ti faccio un trattamento Reiki? Lei non aveva mai sentito parlare di Reiki. Dice, perché no? Se mi fa stare bene... Scusatemi, raga. Ho un impegno, mi tolgo. Mi dispiace. Comunque spero che poi potrai seguire il tutto su YouTube, sul canale YouTube. Io comunque faccio parte anche della comio Reiki Do. Mi piacere. Siamo tutti i fratelli. Quindi sono felice di sapere che c'è qualcuno che conosce bene. Io sono di Casal Monferrato, mio maestro è Egno Favero, che ho conosciuto anche in Amoto. Sì, perfetto. Bene, stiamo parlando di linguaggio comune. A presto allora. A presto, un abbraccio. Un abbraccio anche a te, ciao. Allora dicevo, Chiara Grandi ha questo problema di salute. E allora cosa fa? In questa palestra incontra questo ragazzo. Per farla breve, il ragazzo gli propone un trattamento Reiki. Lei riceve il trattamento Reiki, si sente bene. Per sé, sette mesi, non ha avuto più problemi con il braccio. Ma poi il dolore riprende. A questo punto, quando vede il suo amico, gli fa, senti, ti dispiace se mi rifai un trattamento Reiki. E lui gli fa, certo, però perché non ti prendi tu un primo livello? E lei, un po' così, sorpresa, fa, ma perché si può? Come funziona? Io pensavo che questo fosse un dono tuo, che tu avessi ricevuto. Che quindi, no, no, dice, si tratta di Reiki e Reiki lo possono apprendere tutti. A lei gli si accese la lampadina, dice, ben venga. E quindi si fece il primo livello Reiki, poi il secondo. E quindi mi cominciò ad abbracciare la filosofia Reiki e si curava da sé. E insomma, ogni giorno si faceva l'autotrattamento. Allora, c'è da dire anche un altro fatto. Chiara Grandi è una partita di lingue straniere, conosce perfettamente l'inglese, ha un udito così sofisticato che riesce a percepire anche le più sottili variazioni di accento, e ti riesce a conoscere un texano piuttosto che un new yorkese. E proprio per amore delle lingue si trasferisce in America. In America conosce dei ragazzi giapponesi, insomma, dove lavorava, e a un certo punto questi amici gli fanno, ma perché non vieni in Giappone in vacanza da noi, una settimana? E lui dice, perché no? E se ne va in Giappone. Vai in Giappone a questo punto però, visto che si trova a Tokyo, dice, perché non andare a capire di più su questo Reiki? La cosa assurda è che in Giappone tutti avevano dimenticato cosa fosse il Reiki. Cioè si era divulgato in Occidente e si erano perse, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, tutte le notizie sul Reiki che partiva dal Giappone. E quindi lei rimase meravigliata. Dice, è possibile che in Occidente questo Reiki sta facendo notizia, le persone sono entusiaste, e qui in Giappone nessuno conosce più niente del Reiki. E' rimasta molto delusa. Finché un giorno però una persona dice, ma guarda, forse, 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 se ci sarebbe una persona che potrebbe aiutarti a capirne di più, dice, devi andare in questo monastero e chiedere di Tizia Seccaio. Allora Chiara Grandi va in questo monastero, insomma ci arriva, chiede di Yakuten Innamoto. Yakuten Innamoto è questo signore qui, ok? Questo signore pelato con il pizzettino bianco. Allora Yakuten Innamoto parla perfettamente inglese perché prima di farsi in Monaco lavorava in un'agenzia viaggi e di conseguenza conosceva molto bene l'inglese. Insomma, per Chiara Grandi è stato un solo inizio meraviglioso. Yakuten Innamoto fa capire a Chiara che il Reiki che aveva imparato però in Occidente, quindi in Italia, non era il Reiki tradizionale, non era quello puro. Allora dobbiamo capire cos'è un Reiki puro da uno che non lo è. In pratica con Avaiotakata, questa signora qua, successe che una volta che il Reiki è arrivato in Occidente, molti di quei maestri che in Occidente vengono chiamati Reiki Master, sto gran parolone, maestro Reiki, ma detto all'americana può sembrare una cosa esorbitante, Yakuten Innamoto fa capire che il Reiki in questo percorso è stato modificato. È modificato in che cosa? Innanzitutto nella sua trasmissione e successivamente anche nei simboli. Cosa sono i simboli? I simboli sono dei segni particolari che permettono di poter adoperare l'energia e mandarla a distanza. Ecco, cerco di essere abbastanza, come dire, pratico per non usare i paroloni. Quindi questi simboli Reiki si adoperano dal secondo livello in poi per mandare energia a distanza. Quindi se io decidessi stasera di mandare del Reiki così come stiamo facendo ad alcune persone che conosciamo, anche perché magari sentiamo sui giornali che hanno avuto problemi, come Alex Zanardi per esempio, a cui stiamo mandando Reiki da un po' di giorni, dobbiamo usare i simboli del secondo livello. Diversamente c'è solo il proposito, una buona preghiera, ecco, ma niente di più. Allora, torniamo a questo Yakuten Innamoto, riferisce a Chiara Grande che il Reiki che conosce lei non è quello originale e gli propone di ripartire da zero. Dice, riprenditi il primo livello, il secondo, ecco si fece. Riprese il primo, il secondo, il terzo livello e poi divenne maestra Reiki, ma di quello tradizionale, quello puro che ancora veniva trasmesso, viene trasmesso in Giappone grazie a Yakuten Innamoto che l'ha ricevuto da Kujiro Yamaguchi, che è stata l'ultima insegnante vivente. Lei è morta nel 2003. Quindi, grazie a Kiyoko Yamaguchi, che trasmise a Yakuten Innamoto il Reiki originale, è arrivato grazie a Yakuten Innamoto anche qui in Europa e in Italia, grazie sempre a Chiara Grande. Allora, cerco di essere sintetico e vi dico subito una cosa. Il Reiki, in buona sostanza, è una tecnica che permette di armonizzare la propria energia servendosi dell'energia universale. Devo spiegare un piccolo, breve passaggio. Voi sapete benissimo che esistono i pranoterapeuta. Il pranoterapeuta è una persona che ha una sua energia e la usa quando deve mettere in equilibrio l'energia delle altre persone. È un po' quando noi abbiamo la batteria della macchina scarica e chiediamo a qualcuno se ci permette con i propri cavi di collegarsi alla nostra ed aiutarci a partire. Non so se riesco a essere esaustivo a farvi capire. Quindi, il pranoterapeuta è come se fosse una batteria carica che deve dare energia a un'altra batteria, a una macchina scarica. Quindi, nel fare questo, però, quando noi prendiamo energia da un'altra batteria, la batteria è più carica, però piano piano si scarica. E nel medio-lungo termine questi pranoterapeuti spesso si ammalano perché non hanno più energia, pure di darla agli altri. Perché vi ho fatto questo esempio? Perché nel Reiki non è così. Nel Reiki si prende l'energia universale, si riceve questa energia, tramite le mani viene, diciamo, distribuita agli altri oppure a se stessi. Quindi, non andiamo a inficiare il nostro, come dire, il nostro coefficiente energetico. Anzi, aggiungiamo altre energie e rimettiamo a posto la nostra. E quindi questa è una cosa straordinaria. Perché nel momento che io decido di mandare, per esempio, energia a Giorgia o a Stefania, nel momento che io faccio questo, nel passare questa energia da me a Stefania oppure a chiunque altro, un po' di questa energia rimane su di me. Se poi decido di farlo per me stessa, ancora meglio. Quindi il reverendo Yaku Teninamoto adesso viene in Italia almeno una volta all'anno e fa anche lui dei seminari di attivazione Reiki. Allora, qui questa foto è stata scattata in Calabria quando Chiara Grandi veniva qui a insegnare a me, a tanti miei amici, il Reiki. Premesso che io già, prima di prendere il Reiki con Chiara, avevo già esperienze, avevo avuto già altri maestri. Però poi decise di abbracciare il Comio Reiki perché l'ho trovato molto più interessante, molto più intenso. Qui ci troviamo in una grotta in Calabria, si chiama Montestelle del Soprastilo. In questa grotta c'è una statua bellissima della Madonna Sida di Poco, però è una statua bellissima. E c'è un'energia in questa grotta che è una cosa straordinaria. e qui siamo ai piedi del Monte Consolino, sulla parte ionica di Stilo, che è una città molto importante, la città del sole, così detto. Allora, qui sono io con Chiara Grandi a Serra San Bruno, non so se lo conoscete, è in occasione di uno dei suoi viaggi, quando veniva in Calabria, poi le faceva un po' conoscere la Calabria. a Serra San Bruno è un luogo molto molto spirituale, ricco di energia. Quindi l'energia è una cosa con cui si va a braccetto. Bene, parliamo adesso della tecnica di autoguarigione. Vi ho fatto un po' la storia generale, e quindi cosa voglio dire? Grazie a Chiara Grandi, il Reiki, il Commio Reiki è stato divulgato in Italia e in Europa, ma il vero e autentico Reiki. A detta di molti che sono stati anche gli Elimei che avevano iniziato percorsi con altri, si sono accorti che questo tipo di Reiki è molto più potente, è molto più incisivo, è molto più coinvolgente. Questa è una seduta di Reiki, ci sono tre persone che trattano contemporaneamente una paziente, c'è chi sta trattando il collo, il petto, qui l'intestino stomaco. Adesso vi voglio far vedere alcune cose. Allora, Cosa è il Reiki? Cosa fa questo Reiki? L'energia ha la capacità di riordinare nel nostro corpo i processi che hanno provocato disturbi e malattie e li riportiamo alle leggi della vita. Cosa vuol dire questo? Mettiamo in armonia la persona con l'energia, con se stessa innanzitutto. Le persone che noi, in campo olistico, o in naturopatia, o in miopiatia, sappiamo che la malattia nasce non perché è una cattiveria, perché Dio ci manda chissà quali disgrazie, non è affatto così. La malattia sorge nel momento in cui c'è uno squilibrio interiore, quindi recuperare questo equilibrio è molto importante. Il Reiki è un'energia che viene definita energia dell'amore, che mette in equilibrio proprio tutto quanto. È una profonda energia curativa che agisce sia sul piano fisico-mentale, ma soprattutto spirituale. Allora, cosa fa un terapista Reiki? Niente, il terapista Reiki fa una cosa semplicissima. prima di iniziare un trattamento fa la centratura. Quando dico centratura vuol dire che mette le mani sul petto, sul cuore. Quando si sente pronto e accade una cosa meravigliosa, le mani incominciano a scaldarsi, allora inizia a fare il trattamento. E cosa succede? Succede che quando facciamo il trattamento le persone iniziano subito a rilassarsi. Da uno stato beta si passa a uno stato alpha. Cosa voglio dire? che le nostre frequenze cerebrali rallentano. Quando siamo in beta, in beta vuol dire che qui, questo giallino, le nostre frequenze sono molto, molto, molto veloci. In genere, quando accade questo, quando siamo in uno stato di surmenage psicologico, quando siamo stressati, immaginate di essere in coda in autostrada perché c'è stato un incidente e siete imbottigliati in una fila che non finisce più. Ci stressa. E in questo caso le nostre frequenze cerebrali hanno una frequenza molto più veloce. Se passiamo da beta ad alfa, notiamo che la frequenza rallenta. Quindi, la prima cosa che succede è quando facciamo un trattamento Reiki, mettendo le mani così vicino la testa della persona, la persona inizia a rilassarsi e dopo un po' addirittura si addormenta e scende in uno stato di sonno profondo. Ma non è importante o no che si addormenti, può anche non addormentarsi. Ma questo è sinonimo che il Reiki sta agendo in profondità, la persona si sta abbandonando, si sta lasciando andare tranquillamente. Quindi, il trattamento Reiki quindi inizia così, si fa prima la parte prona e poi quella supina e cosa succede? è che ogni volta che noi mettiamo le mani in un punto dobbiamo lasciarlo mediamente tre minuti. Tre minuti sono il tempo ideale per mettere in vibrazione, in accordo, quell'organo, quel punto del corpo che noi stiamo trattando. Allora, queste sono, allora, dicevo, io ho fatto un piccolo errore, prima ho detto prona, noi iniziamo sempre dalla parte supina alla parte anteriore. Se notate, si inizia dagli occhi, poi si passa alle tempie, queste sono tutte le fasi della parte supina. Mediamente per fare un trattamento completo ci mettiamo un'ora. Questa è la parte prona. La parte prona, a differenza di quella supina, invece di tre minuti, basta un minuto e mezzo, perché nella parte supina noi trattiamo tutti gli organi, incominciando dalla gola, passiamo al cuore, i polmoni, fegato, milza, pancreas, intestino, e poi organi genitali, i reni, e quindi stiamo trattando tutti gli organi. Nella parte prona basta un minuto e mezzo, basta un minuto e mezzo, e quindi mediamente, diciamo che nell'arco di un'ora riusciamo a completare un trattamento completo. Quindi a cosa serve il reiki? A riequilibrare la propria energia, l'energia degli altri, quindi questo a contatto. Quando io, col primo livello, io posso trattare le persone solo a contatto, se ci sono vicino. Posso con il reiki rimettere in equilibrio l'energia degli ambienti, ok? Quindi della propria casa, delle proprie stanze, dare energia a una pianta che vedo che è un po' malaticcia, che fa fatica a crescere, oppure dare energia all'animaletto di casa, al cane, al gatto, al pesciolino, alla tartaruga, ok? Mi serve anche per eliminare controindicazioni da farmaci, nel senso che spesso noi sappiamo che i farmaci che vengono adoperati, se leggiamo un bugiardino, hanno un sacco di controindicazioni. Quando noi mettiamo i farmaci nelle nostre mani, dopo un po' sentiamo i fuochi d'artificio, come scariche elettriche ci indicano quante controindicazioni del farmaco e riusciamo a migliorare il principio attivo del farmaco e diminuire quelli che sono gli effetti collaterali o gli atrogeni da farmaco. Riusciamo a purificare, possiamo purificare il cibo e l'acqua, litigare effetti di sigaretta e vino, addirittura se noi trattiamo le sigarette delle persone, a volte facciamo degli scherzetti, qualcuno che fuma, prendiamo le sigarette e le teniamo in mano, poi le le diamo alla persona che fuma e dopo un po' diciamo ma che schifo sta sigaretta, ma prima mi sembrava più vuota. Quindi succede pure questo. Il vino, il vino è una cosa fantastica, se il vino non è di buona qualità, dopo un po' che lo trattiamo si sentirà proprio il gusto di che il vino non è buono, la persona non lo accetta più, non lo beve, o almeno non lo beve volentieri. Adesso parliamo del Reiki, mi interessa parlare del Reiki perché a differenza di tutti gli altri paesi, allora, il Reiki è energia risanante, è una via verso la consapevolezza perché entrare a contatto con il Reiki ti permette di comprendere che facciamo parte di un qualcosa di molto più grande e ti permette di prendere consapevolezza. Ma tornando al Reiki come tecnica di guarigione, in Italia si sta facendo un po' fatica a farlo entrare negli ospedali, cosa che invece si fa tranquillamente negli altri paesi del mondo, per esempio in America addirittura è mutuabile, quindi se uno ha bisogno di un trattamento Reiki e gli viene passato diciamo dalla cassa mutua, ma lo stesso accade in Germania, in Lussemburgo, in Italia si fa un po' fatica, però piano piano sta prendendo piede. Allora, perché è importante il Reiki negli operatori sanitari, sappiamo che tutti quelli che svolgono professioni di autoaiuto spesso sono caricati di uno stress notevole, lo stress da lavoro, dal farsi carico dei problemi degli altri e il proprio stress personale, che noi chiamiamo in questo caso burnout, tradotto letteralmente è la sindrome dello scoppiato, potremmo definirla. Chi è, chi sono questi scoppiati, chi soffre di burnout? Tutti quelli, dicevamo, che lavorano nell'attività di autoaiuto. Medici, infermieri, poi, visto il caso, la situazione attuale del COVID, immaginate questi medici infermieri che lavorano con orari disumani e crollano addirittura per la stanchezza. Immaginiamo quale stress psicologico si portano dietro. e quindi lo stress psicofisico da lavoro, tutto quello che noi facciamo, il come affrontiamo il nostro lavoro e quindi il reiki negli ospedali sarebbe qualcosa straordinario da vedersi. Quindi nella comunità europea in certi paesi già esiste questa realtà, in Italia solo in alcuni ospedali. Adesso vi faccio vedere quali. Allora, qui alle molinette di Torino, come vedete c'è un'operatrice reiki che sta iniziando a trattare un paziente. Ho voluto mettere apposta queste slide per farvi capire che il reiki negli ospedali sarebbe una bellissima realtà, innanzitutto perché è naturale. In secondo luogo non ha alcuna controindicazione, nessuna. L'unica controindicazione è non farlo. Ok? Quindi questo ha le molinette sempre di Torino. Qui ci sono addirittura cinque operatori sulla stessa persona. Vedete che avere più persone che trattano contemporaneamente una persona ammalata comunque che ha bisogno di reiki per chi è sdraiato, per chi riceve il trattamento è una cosa straordinaria perché si sente questa energia avvolgente è come sentirsi ritornare alle origini. Beh, non vi racconto la mia prima esperienza con il reiki perché sono di parte quindi direte voi te la sei un po' inventata, non è così e se poi me lo chiederete magari ve lo racconterò. Ok? Qui invece ho voluto inserire questa slide. Qui siamo in Spagna. Qui ci sono medici che prima di iniziare a lavorare si riuniscono insieme in cerchio, questo è un cerchio reiki dopodiché iniziano la loro attività lavorativa quindi in Spagna il reiki è molto conosciuto molto e si pratica negli ospedali. Eccolo qua malati di tumore il reiki aiuta al primo esperimento le molinette. Il nostro augurio che noi stiamo cercando di farlo partire anche in alcuni ospedali qui in Calabria proviamo un po' di resistenza però con l'energia del reiki questa resistenza prima o poi crolleranno ce la faremo ce la faremo quindi curare con il reiki sarebbe una cosa fantastica innanzitutto perché è energia pura è energia inesauribile il reiki ha solo bisogno di mani cioè persone che vogliono usarlo il reiki quindi è la tecnica più semplice del mondo possono impararla dai bambini agli adulti possiamo praticarlo su noi stessi ed è utile farlo tutti i giorni io lo pratico tutti i giorni alla sera poi mando reiki a distanza a chi sappiamo che ne ha bisogno in questo momento nella lista dei miei allievi ce ne sono una diecina che noi puntualmente ogni sera trattiamo guardate bene vi racconto queste cose non perché aspiriamo a ricevere la medaglietta di cartone lo facciamo in silenzio e senza chiedere niente a nessuno perché la cosa più bella che una persona può fare è regalare il reiki a una persona che magari in quel momento è in una particolare situazione o rischio della propria vita vi dicevo stiamo trattando anche Alex Zanardi che io conosco solo per sentire l'ho visto in tv tutti conosciamo la storia ma al suo tempo abbiamo trattato anche Schumacher e tanti altri ma vi ripeto lo sto dicendo questa sera ma non perché dobbiamo mi sto gongolando perché sono cose che ognuno fa in silenzio tanto per mandare reiki a distanza non è necessario starci un'ora bastano dieci minuti l'energia arriva alla persona che deve arrivare basta solo pronunciare il nome della persona e poi grazie ai simboli reiki riusciamo a fare questo sono io in un seminario uno dei miei seminari di secondo livello qui ci sono altre allievi tra cui anche una ragazzina questa è la più giovane delle mie allievi e qui stanno imparando i simboli reiki per mandare reiki a distanza quindi il secondo livello permette di entrare a conoscenza dei simboli che serviranno per mandare energia a distanza ma parlate bene energia a distanza a volte vuol dire anche mandarla a se stessa faccio un esempio se io devo trattarmi una parte del corpo che è difficile da contattare con le mani mi tratto come se fosse una persona distante usa i simboli così non mi devo accroccare perché magari certe posture poi ci stancano o ci fanno stare male allora ci possiamo mandare possiamo mandare reiki in una parte specifica del corpo che è difficile da contattare con le mani per più di tot minuti quindi il reiki di secondo livello è utile anche per se stessi poi vediamo un po' ecco questo è un altro seminario questi sono alcuni dei miei allievi di qualche anno fa questo è uno degli attestati che noi rilasciamo ai nostri diciamo allievi questo è un attestato di terzo livello e vi ripeto io faccio parte della Comio Reiki Do che adesso è internazionale e quindi questi sono gli attestati che in tutto il mondo sono uguali cambierà solo la lingua e quello che c'è scritto ha ricevuto nella tradizione Tizekai ha ricevuto nella tradizione l'insegnamento originale giapponese come Reiki del reverendo Yakulten Innamoto quindi noi sappiamo chi siamo la nostra storia ve l'ho raccontata vi ripeto non sto dicendo questo perché il Reiki che pratico io sia migliore degli altri noi abbiamo una consapevolezza che è quello originale non è stato come dire trasformato trasformato vuol dire che è stato aggiunto qualcosa al Reiki da parte di qualche insegnante di qualche maestro che con il Reiki originale non ha niente a che fare ecco per cui in America li chiamano Reiki Master io sono invece un umile insegnante Reiki allora siamo quasi alla fine spero di non avervi stancato allora una scelta importante il Reiki è davvero un'opportunità cioè avere il Reiki che una persona in famiglia abbia il Reiki vuol dire tante cose vuol dire poter aiutare i propri familiari i propri parenti i propri figli aiutare se stessi e poi con il Reiki si può fare il Reiki è straordinario ci possiamo fare tantissime cose non vi anticipo nulla perché vi voglio solo incuriosire quindi il Reiki non è solo un parolono un termine ok quindi qui c'è il numero mio per chi vuole prendere contatti per chi vuole saperne di più se no ecco potete andare su questo sito che è il mio sito dove spiego tutto sul Reiki la mia storia personale con il Reiki ripeto io lo pratico da 25 anni lo insegno da quasi 11 e mi trovo benissimo ho parecchi allievi in Calabria in Sicilia in Campania io mi sporto nel sud al nord ce ne sono già tanti va benissimo così comunque mi considero un maestro errante dove mi chiamano vado una volta ero l'opposto una volta io ricordo ai tempi miei se volevi il Reiki dovevi partire nottetempo insomma un sacco di soldi da spendere andare a trovare il maestro beh adesso alcuni di noi io faccio così insomma non mi faccio problemi un seminario Reiki lo si può organizzare in qualsiasi maniera e quindi la cosa importante è che ci siano persone che vogliono impararlo imparare il Reiki non è una cosa complicata l'allenamento al Reiki inizia subito dopo averlo ricevuto una cosa importante che non ho detto ma perché non c'è stato non l'ho inserito nelle slide il Reiki viene trasmesso da maestro ad allievo potete comprare tutti i libri del mondo sul Reiki potrete imparare cos'è ma non potrete praticarlo il Reiki si trasmette da maestro a discepolo con tutta una tecnica particolare si usano dei mudra questi sono i mudra questo è un mudra questo è un mudra quindi per magnetizzare l'energia si usano i mudra e poi grazie al mudra arriva questa energia che viene trasferita agli allievi potremmo parlare di mudra in un'altra occasione per esempio questa è la panamudra la panamudra se guardate bene è il mudra che praticava Gesù ok se andate nella cattedrale di Palermo anche quella com'è quella cattedrale di vicino Palermo quasi appiccicata Monreale dove c'è Monreale la cattedrale di Monreale c'è il Cristo Pantocratore questo mosaico bellissimo e si vede Gesù che fa così bene questi sono i mudra questi i mudra hanno molto a che fare con la medicina tradizionale cinese sono dei sigilli quando noi per esempio in meditazione si fa questo no? pollice indice polmone intestino ok? sono due meridiani quindi Gesù li conosceva molto bene i mudra e quando pratica questo sta facendo qualcosa in particolare non nella trasmissione del reikus siamo i mudra ce ne sono poi fantastici ma alcuni non si possono dire così bisogna frequentare dei corsi che sono particolari e poi si entra a contatto con queste conoscenze specifiche che vi aprono la mente bene un reiki luminoso abbraccio a tutti e magari parleremo di mudra o di altro ci ritroviamo presto intanto grazie per il tuo tempo e per avere partecipato grazie a voi sulla diretta ci rivediamo presto con tutti ciao buona serata a tutti